Gallarate città sicura, a dirlo sono i numeri. In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, l'amministrazione comunale diffonde i dati relativi alla viabilità e il bilancio è tutto positivo. Nel 2018 non si è verificato nessun incidente mortale e sui 496 rilevati 260 sono stati senza feriti. Le strade più pericolose restano via Milano, via Torino, Corso Sempione, via Varese e via Carlo Noè, dove il lavoro di pattugliamento e di controllo è continuo. Le zone più critiche da un punto di vista della sicurezza stradale sono state le arterie a più lunga percorrenza, anche in termini di lunghezza, di sviluppo delle arterie, parlo appunto di via Milano, via Varese, via Noè e siamo intervenuti per contrastare appunto l'incidentalità urbana, quella più grave, con una riduzione direi significativa appunto di incidenti più gravi e con la diciamo l'azzeramento degli incidenti mortali. Nel complesso, aggiunge l'assessore alla sicurezza Francesca Caruso, i controlli su strada sono aumentati del 20% rispetto all'anno precedente e sono aumentate sempre del 20% le multe assegnate per uso di telefoni cellulari alla guida e per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Sono invece diminuite quelle emesse per veicoli non revisionati, passate da 918 a 866 o non assicurati, passate da 278 a 208. Questo vuol dire che la campagna del 2017 è andata bene, quindi la gente, i cittadini hanno capito che per andare in giro, per guidare a gallarate bisogna avere i veicoli a posto, a norma. Numeri confortanti anche in tema di velocità. Le multe emesse per superamento dei limiti sono scese da 33 a 20. È sceso anche il dato sulla velocità, quindi anche lì vuol dire che la campagna di sensibilizzazione, i controlli, le autovelox hanno funzionato perché siamo scesi rispetto all'anno prima e quindi continueremo a puntare sulla sicurezza stradale.